Il terzo, solo da Rima Arredamenti. Benvenuti a una nuova puntata di Adi Agricoltura. Oggi parliamo di vino e nello specifico di consorzi di tutela. E lo facciamo con due ospiti davvero illustri, che sono Arturo Stocchetti, presidente del consorzio del vino Soave, e Cristian Marchesini, che è presidente del consorzio del vino Valpolicella. Benvenuti. Partiamo subito con il presidente Stocchetti. Che ruolo rivestono oggi i consorzi di tutela? Direi un ruolo molto e molto importante a livello rappresentativo e territoriale. Oggi i consorzi, per la maggioranza, rappresentano, come vuole, l'Erga Omnes, rappresentano più del 90% del territorio, quindi sono coloro che governano il territorio stesso, quindi governano la viticoltura del territorio. La stessa domanda vorrei rivolgerla anche a Marchesini. Lei come la pensa a tal proposito? Non posso essere che favorevole, e concordo con il mio collega presidente del Soave. Sicuramente i consorzi negli ultimi tempi hanno cambiato pelle, da solo attività di controllo sono passati in attività di promozione, tutela e vigilanza della denominazione e della sua interezza. E oggi cosa significa gestire una DOC? Direi che è un lavoro molto importante e di grande responsabilità. Attorno al nostro tavolo di concertazione, il tavolo dei nostri consigli di amministrazione, siamo coloro che decidono veramente il futuro del territorio, il futuro della viticoltura. Tramite i nostri giudizi e tramite le nostre decisioni, siamo coloro che creano e continuano a creare reddito alle famiglie. Lei cosa dice Marchesini? Beh, innanzitutto la governance di una denominazione è il fattore principale dell'attività del consorzio e questo ci permette di gestire, come diceva il mio amico Arturo, il reddito delle famiglie ma di un terro territorio, perché probabilmente la denominazione non è solo dei produttori, ma è di, come si suol dire, di tutti coloro che girano attorno a quel territorio ben determinato. Oggi parliamo di due denominazioni davvero importanti sul nostro territorio. Per quanto riguarda il Soave, è una denominazione sempre più conosciuta, sempre più apprezzata, anche a livello internazionale. Qual è stato allora il ruolo del consorzio? Il ruolo del consorzio è stato importantissimo perché ha cercato di seguire veramente quello che è il mercato, quello che il mercato chiede. Non dimentichiamo che il Soave, già negli anni 60, era considerato il vino bianco d'Italia, questo la dice lunga. Vuol dire che già in primi anni, negli anni 60, era il primo vino italiano, il primo vino bianco italiano che è stato esportato in tutto il mondo. Quindi per noi è stato un grande orgoglio ereditare questo e cerchiamo in tutti i modi di governarlo nel modo giusto, ponderato, in modo tale che il mercato internazionale capisca la filosofia del nostro saper fare il vino. Ecco, e invece Marchesini, il consorzio del Valpolicella, come gli altri consorzi, esiste ormai da 70 anni. Come è cambiato il vostro ruolo in questi 70 anni? Beh, il ruolo del consorzio è un ruolo ben definito dalla 164 del 68 e quindi per circa 50 anni abbiamo fatto l'attività di governance della denominazione e di controllo dei produttori. Poi dal 2010 le cose sono cambiate, è entrato in vigore il decreto 61 e quindi l'attività del consorzio si dedica innanzitutto alla promozione e quindi aiutare le aziende e soprattutto quelle emergenti a affrontare nuovi mercati ancora sconosciuti. Comunque, gli altri due ruoli fondamentali dei consorzi rimangono comunque la tutela e la vigilanza contro le contraffazioni e quant'altro a livello internazionale. Ecco, lei accennava prima la promozione. Quanto è contata e quanto conta la promozione consortile per la vita delle aziende e per la vita delle aziende del Valpolicella? Beh, diventa fondamentale. Noi abbiamo poi un brand importantissimo che è l'Amarone che aiuta comunque anche le nuove aziende a affrontare questi mercati. Però è fondamentale l'attività del consorzio che riesce a coagulare attorno all'attività propria del consorzio appunto queste aziende per affrontare questi nuovi mercati e dare una mano a coloro i quali non riescono proprio per le dimensioni delle aziende a essere presenti. Basta ricordare che il consorzio sarà presente al Pro Wine a Dusseldorf con ben 33 aziende e saremo il consorzio più rappresentativo a livello italiano. Certo. Allora, invece Arturo, quanto è servita l'attività promozionale nel consorzio del Soave per aumentare i numeri, per dare possibilità ai vostri consorziati? Direi che è stata di vitale importanza perché la promozione oggi vuol dire comunicare e oggi la comunicazione che noi andiamo a raccontare per il mondo è proprio questo è raccontare la nostra filosofia, le nostre tradizioni che sono irripetibili e questo è da sottolineare perché noi come il Valpolicella, l'Amarone quant'altro, altre denominazioni nostre, veronesi, sono irripetibili, si trovano esclusivamente nei nostri territori, questo andiamo a raccontare, andiamo a raccontare la storia, la civiltà, le tradizioni e quindi non è che andiamo a raccontare esclusivamente il prodotto vino, noi andiamo a raccontare il territorio, quindi tutto quello che c'è all'interno della cultura e della nostra storia. Ho capito, ecco, e lei Presidente Marchesini, prima mi accennava a Provine, quali sono le attività promozionali che adesso ha in programma il consorzio? Penso a Vinitaly, penso ad Expo, ai prossimi appuntamenti insomma? Beh, allora innanzitutto Expo, siamo stati come consorzio tutela di Vini Valpolicella la prima iniziativa dall'Expo ai territori, quindi con l'anteprima a Marone che si è svolta a fine gennaio. Avremo Provine, Vinitaly con altre 20 aziende presenti nel nostro stand, poi iniziative sia in Cina che in Canada, ma soprattutto voglio ricordare un'iniziativa che è stata molto importante all'inizio del mese di dicembre dove tutti i consorti del Veneto si sono presentati assieme a New York e a Chicago e c'è stata una grande soddisfazione perché far squadra vuol dire aver successo. Certo, ecco Arturo, la stessa domanda la rivolgerei anche al consorzio del Soave quali sono i vostri piani promozionali ora? È un invito a nozze perché non vorrei ripetere quello che ha detto il mio collega e amico Cristian Marchesini ma è questa la nostra filosofia di fa squadra e lo sa benissimo perché tutto quello che abbiamo fatto ultimamente non è solo distintamente Soave, Valpolicella e quant'altro e altri consorzi, ne abbiamo 21 in Veneto, ricordiamolo, piccoli e grandi ne abbiamo 21, quindi vuol dire che andiamo a raccontare una storia veramente importante in cui siamo presenti insieme e l'ha detto bene, siamo presenti al Vinitaly, diciamo personalmente con i vari consorzi ma al Provani ci presenteremo ognuno con le nostre peculiarità ma sotto un cappello unico della regione Veneto quindi avremo un padiglione, due terzi di un padiglione esclusivamente per noi veneti dove ci sarà dentro sicuramente il Valpolicella, il Soave, il Prosecco, il Prosecco di OCG e quant'altro, ripeto 21 e quindi è il nostro grande orgoglio presentarsi anche come squadra e in giro per il mondo ultimamente ha detto bene Cristian, ci stiamo presentando in questo modo, come squadra, squadra Veneta e penso che quello sia un discorso di comunicazione vincente. In conclusione, quanto vale, quanto conta l'export per i consorzi? Allora, per quanto mi riguarda come Soave posso dire che vuol dire l'80% dell'esportazione sui 60 milioni di bottiglie che vendiamo nel Soave circa il 70-80% è estero quindi la promozione è fondamentale e questo è per quanto riguarda anche il discorso Veneto e vale anche per il Valpolicella, l'80% è esportato all'estero 60 milioni di bottiglie complessive tra le quattro denominazioni che rappresenta il consorzio Complimenti Grazie Allora, noi vi salutiamo e restando in attesa di rincontrarvi durante tutte queste iniziative che avete in programma e adesso ricordiamo ai nostri telespettatori l'agenda e cioè che è prorogata al 22 marzo 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole la proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole ovvero ai trattori agricoli e forestali e ai carrelli semimoventi a braccio telescopico e passiamo alla buona notizia in agricoltura restando sempre in tema di vino e di viticoltura e segnalando che il Ministero per le politiche agricole e alimentari e forestali ha reso noto che grazie all'intervento immediato dell'Ispettorato di Repressione Frodi ha bloccato la vendita di un'ingente quantità di finto prosecco DOP che stava per essere venduta in tutte le catene distributive e sui siti web presenti in Gran Bretagna adesso ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi e voi per averci seguito vi ricordiamo che potete sempre trovarci su Facebook e su Twitter cercando Adi Agricoltura e che potete inoltrarci tutte le vostre segnalazioni alla nostra mail di redazione che è adiagricoltura.gmail.com grazie per l'attenzione e alla prossima settimana arrivederci